Si disputa al Cipriani di Raiano il confronto play-out in gara unica tra Nero Stellati e Miglianico che si giocano la permanenza in eccellenza dopo aver chiuso il campionato, separate da appena un punto in graduatoria. Peligni col vantaggio della miglior classifica che si traduce nella possibilità di avvicinare la salvezza non solo con un successo entro i 90 minuti regolamentari, ma anche riuscendo a mantenere il pareggio alla fine di eventuali tempi supplementari. Pubblico numeroso per una gara dal verdetto inappellabile. I Nero Stellati si presentano in campo con Pendenza e Sosa in attacco, mentre in Mediana agiscono 40, Iacobucci, Palmerini e Sisse. Nel Miglianico sono Orta e Polisena i principali riferimenti avanzati, con l'esterno di Crescenzo a Darmanforte in fase offensiva. A Battista è di Donato il compito di far filtro a centrocampo. Avvio di Marca Peligna con i Nero Stellati propositivi. Sulla conclusione di Bruno è attento Ferrara. Poco dopo è Pendenza a riprovarci senza la giusta precisione per far male a un Miglianico che col passare dei minuti si fa più inraprendente. Prima è tempestiva la retroguardia pratolana a chiudere Polisena al momento del dunque e poi Amo interviene in due tempi sulla botta da fuori di Di Moia. Squarre al riposo sul risultato di 0-0. All'inizio del secondo tempo il primo cambio del Miglianico con Mennillo che subentra a Di Crescenzo. Al 54esimo si sblocca il risultato. Alessandro Pendenza controlla il pallone e gonfia la rete per l'esultanza del numeroso pubblico Peligno che saluta il vantaggio dei Nero Stellati. La risposta giallo-blu non si fa attendere ma sul tentativo di Polisena il pallone viene deviato in corner. Il numero 10 miglianichese ci riprova al 65esimo ma dopo essersi fatto spazio spedisce alto sulla traversa. Nero Stellati efficaci nel recupero palla e nel contrattacco. Al 70esimo Sisse riesce ad arrivare su un cross apparentemente lungo. Il pallone giunge a Pendenza che con il suo 18esimo gol stagionale fa esplodere il Cipriani per il 2-0 a tinte nero stellate seguito dalle proteste di un miglianico che non si rassegna e prova a riaprire il match con un velenoso traversone di grossi sventato dal numero 1 pratolano Amo. Peligno per Sosa è il primo cambio dei Nero Stellati che all'86esimo vanno vicini al Triss con una bella combinazione stoppata sul più bello dall'estremo difensore Ferrara. In pieno recupero è Orta a cercare inutilmente il gol per il miglianico sconfitto 2-0 e retrocesso in promozione. Dall'altra parte è grande la soddisfazione dei Nero Stellati per una vittoria importantissima che avvicina la salvezza. Per agguantarla definitivamente ai Peligni basterà la permanenza in Serie D anche di una sola delle due squadre abruzzesi coinvolte nei play-out del Girone F della quarta serie nazionale. Per i Nero Stellati la salvezza sarebbe il giusto premio alla luce delle sette vittorie conquistate nelle 12 gare della gestione Bernardi. Nel dopogara spazio ai due allenatori Maurizio Tacchi del Miglianico e proprio Alberto Bernardi dei Nero Stellati. Niente che non abbiamo fatto risultato però sull'impegno dei ragazzi non posso dire niente. Poi come dico sempre gli episodi ci spostano la partita e il secondo gol. E' clamorosamente fallo di Sissé, è vero che stavamo perdendo però ci teneva in partita fino all'ultimo e invece lì ci ha proprio annientato nel senso che ci ha fatto perdere l'opportunità di giocarci la partita fino alla fine. E non è la prima volta, io non mi lamento mai ma questo signore qui non siamo retrocessi, oggi ci ha fatto retrocedere ad Alba purtroppo. Poi si chiede collaborazione, va bene così dai, non è per quello, merito ai Nero Stellati che hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, hanno vinto poi chi vince ha sempre ragione. Bernardi, tanta soddisfazione al termine di questa gara importantissima, vinta contro il Miglianico 2-0 che però oggi non vi fa festeggiare la salvezza. Bisognerà attendere il risultato delle abruzzesi in serie D. Sì, purtroppo dobbiamo ancora aspettare una settimana per vedere se abbiamo fatto l'impresa oppure dobbiamo ancora giocarci l'ultima battaglia. Al di là di questo sono molto molto contento dell'atteggiamento della squadra, di come ha giocato la squadra oggi perché in una partita da dentro fuori è difficile trovare la calma, trovare le soluzioni giuste. Devo dire che i ragazzi hanno dimostrato ampiamente di meritare la categoria, quello che è stato prima del mio arrivo non lo so cosa sia successo, però poi da quando sono io alla guida della squadra i ragazzi hanno sempre dato, tranne in qualche occasione, però hanno sempre dato tutto. E oggi più che mai hanno dimostrato di mantenere la categoria, di onorare la maglia, insomma, secondo me tutto il popolo pratolano è rimasto orgoglioso da questi ragazzi.